L'attesa sta per terminare. Mancano ormai poche ore. Crotone-Avelino è il big match della giornata per tradizione, blasone e momento dei due club. Il trainer pitagorico Franco Lerda ha convocato 25 calciatori, rientra dopo l'assenza per squalifica in Coppa Italia contro il Messina sia Chiricò che Tuminello. Il Crotone cerca conforto anche nei numeri negli ultimi quattro incontri dalle Muramiche contro gli Irpini pitagorici che hanno sempre vinto. I lupi Irpini sono radici da cinque sconfitte consecutive di fila. Il tecnico Roberto Tarino ha caricato i suoi per provare a sfatare questo tabù. Lerda, dalla sua, è pronto a tornare all'antico rispolverando i titolarissimi dal ritorno di Petriccioni in cabina di regia a quello di Branduani tre pali, a Gomez nel ruolo di centravanti da non escludere possibili sorprese in corso d'opera con Roetsk e Scalpita dopo l'ottima prestazione in Coppa Italia. Stesso discorso per Mogos e Carraro, quasi recuperati completamente dal punto di vista fisico. In ottica formazione dunque si va verso il 4-3 con Branduani tre pali. Cala paia dei 6, la una sinistra come Gomelic al centro della difesa. Aua, Petricione e Tribuzzi comporrando la cerniera a centrocampo. Chiricò e Carbò sugli esteri con Gomez al centro dell'attacco. Grazie. 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 Grazie.